Ti vuole la tripla Sanchez, questo è fondamentale! Sanchez si alza da due punti! È un coach! Adesso deve essere più grintoso poi Sanchez! Sanchez, isolation, contro Caloia, Sanchez! Sanchez, poi la penetrazione e il canestro gioca bene, il numero 4, Campano. Mazzarese, Sanchez dall'altro lato che trova la via Adelino. Con Sanchez in palleggio, ancora una penetrazione e poi cambia mano. 13 secondi per chiudere l'azione. Sanchez. Due e dieci da giocare Sanchez, da due punti! I loro Begnamini. Buonasera, Cetti Filocamo. Buono! Si butta dentro l'argentino! Più 11, García è salito in cattedra. La sta decidendo lui questa partita. Sanchez al Bostic attaccato! Due secondi, un secondo, si butta dentro Sanchez, vediamo che succede! E' incredibile! E' incredibile! E' incredibile! Sanchez si butta dentro! Due punti! Sanchez! Si butta dentro Sanchez! Banta! Trapani, bello! L'ingresso in aria! Tre secondi per chiudere l'azione. Due, uno, Sanchez si butta e realizza. Anche se Rino costruisce tiri puliti, solo che non entrano questa sera. Sanchez si butta dentro, batte Yank. Si prende tutto il campo. Trapani poi tripla! Vuole battere Pulli. Ci riesce alla grande! Quindi, è l'osservato speciale, va in vantaggio. Brindisi poi Sanchez però. Un'altra, la Quintana qui però, ogni volta che subisce fallo, sembra quasi che lo sparano. E qui c'è un gioco da tre punti! Sanchez! Si alza da tre punti, Sanchez! Ancora Sanchez! Potendo uno, 65. Setback di Sanchez! E se fa Trapani. Ancora Sanchez. Arrueste e tiro, elegante di Sanchez! Sanchez! E' una batteria! Che si... Poi Soliani, ancora Sanchez. Confabulato Sanchez! Soliani, in qualche modo. Cibra di Joaco! 38 a Velleno! Con De Iaia, poi prova a correre Sanchez contro Tartaglia. E Sanchez gli nasconde il pallone! E due posti, prova Sanchez. Vediamo se questa volta l'ha giocata, l'ha in meta giusta, Sanchez! Tropezzi, costo, costo. Sanchez si alza da tre punti! No, non è il secondo. Subito Sanchez! Contro da Filippovic, realizza Sanchez! Non si può giocare, Sanchez si butta dentro, scarico per Soliani. Si atta da tre punti! Un numero importante! C'è tutto solo... Conde? una stoppata Mazzagatti su Epifani qui del contropete tra Sanchez ancora ancora Sanchez si butta dentro il numero 4 attacca il ferro in maniera magistrale arriva Tommaso Pichi a raggiungere l'urto poi Sanchez si butta in contropete subisce fallo si butta dentro Sanchez è uno spettacolo questa sera Joaquin vuole un'altra tripla poi ancora Sanchez è il terzo rimbalzo offensivo dell'Argen Soliani per ricevere tripla curta rimbalzone però di Sanchez Soliani può armare la tripla Sanchez ecco i pupatti Soliani Sanchez vuole la tripla cambia il gioco per Sanchez e questa volta troppo senso sprecato batti i punti sul parquet il tripla intanto di Sanchez e poi bravo Merlo qui dietro schiena a Fafoli Sanchez ancora Merlo stoppata dell'argentino 76-68 35 secondi alla fine Sanchez si butta dentro Bianco da tre punti aspetta ancora no quindi possono spendere ancora due palli i giocatori di coach Caroli Sanchez 5 secondi per il periodo Sanchez subisce fallo qui si butta dentro Sanchez anche lui va su qui esce dai blocchi Aramburu non in modo falloso poi Sanchez bisogna anche gestire le energie nervose batte sul primo passo Formica Sanchez secondi bianco tripla ragazzi gira bene la pallina da Scandone Sanchez finita il passaggio poi si inventa un cioccolatino per Trapani tripla ragazzi bravo Sanchez si butta dentro e finalmente trova il primo l'arco bomba fatto stata la bontà del roster pugliese Sanchez si butta dentro bellissimo il backdoor all'era ancora poi subisce il ritorno però di fiamma di Sanchez tripla anche per Soliani Sanchez tripla contro Nien l'ingresso di Sanchez per il pitturato 75-67 Sanchez si alza da tre punti Sanchez ci qualcosa sull'assist per Sanchez che alza la parabola ancora Sanchez quintattino vuole il blocco di Soliani Sanchez 2 secondi alla fine Sanchez deve tirare lo fa fallo e canestro Sanchez blocco di Cianci pittaroll che non va segno poi Sanchez si inventa Pichi contro Ferretti vuole la tripla Sanchez questo è fondamentale sul ferro Sanchez si butta dentro batte tutti e va all'interno poi buonissima la difesa di Avellino fa sparire il pallone Pichi Sanchez uno contro uno con Garcia Sanchez mano ancora Trapani bianco Avellino costruisce il tiro Dofezzi si butta dentro carico per Sanchez da tre volte Eyyy Grazie a tutti.